Dottoressa, qual è la fotografia che scatta oggi del reparto che oggi lei dirige, un reparto che ha vissuto momenti di grande difficoltà e anche di grande dolore purtroppo? Attualmente abbiamo tre malati covid non vaccinati, alcuni di questi una persona è anziana, altri due sono direi giovani. Si tratta della polmonite intestiziale che noi purtroppo abbiamo imparato a conoscere bene, con alti e bassi, con trattamenti che spesso non rispondono. Quindi sono malati particolari, sono malati che spesso non hanno un decorso clinico come siamo abituati per il resto della popolazione, per gli altri tipi di polmonite. Da parte nostra c'è sempre la stessa volontà di raggiungere il traguardo che è quello di salvare la vita alle persone, coscienti di un impegno importante, della necessità di non abbassare mai la guardia. Perché anche quando sembra che le cose vadano per il verso giusto, questi pazienti ci hanno insegnato che qualche volta presentano degli imprevisti e noi siamo pronti a cercare di far fronte a questi imprevisti. Anche con una sola dose ci spiegava prima che riuscite comunque a vedere una risposta migliore, ovviamente meglio è se il vaccino è stato completato. Allora, chiaramente la casistica di cui le parlo non è una casistica statisticamente significativa. Posso dirle che abbiamo visto anche con una sola dose di vaccino situazioni in cui ce l'abbiamo fatta a non intubare il paziente. Che cosa si sente di dire? Insomma ancora c'è una fetta di popolazione che rifiuta la vaccinazione. Io mi sento di dire che il diritto alla salute è un diritto sancito dalla Costituzione italiana. Nello stesso articolo 32 della Costituzione italiana si dice che deve prevalere il principio dell'audodeterminazione dell'individuo. Quindi sono assolutamente cosciente che ognuno deve esprimere il proprio consenso prima di essere sottoposto ad un atto medico. E quindi io non dico che non ci deve essere la libertà di scelta, anche se questa deve essere vagliata quando scegliere per sé significa poter mettere in discussione la salute della collettività. E allora lì non ci sto.